E' arrivata l'ufficialità, Francesco Macri è il nuovo presidente di Estra, con quali obiettivi, quali ambizioni ha accettato questo incarico? Con grande senso di responsabilità, di orgoglio, è una cosa molto bella, è la carica più importante che esprime questo territorio, quindi con tanta serietà mi avvicino a questa realtà aziendale importante, senza dimenticare l'origine pubblica di questo gruppo, ricordo per chi non lo sapesse, Estra è il frutto della fusione di Coingas, di Consiag, di Prato e di Intesa di Siena, le tre vecchie aziende municipali del gas che si sono fuse hanno dato vita a un grande gruppo che ormai opera nel mercato anche in altri settori, nel settore dell'energia, delle telecomunicazioni, delle energie rinnovabili, quindi è una grande responsabilità e avrò una particolare sensibilità verso il mercato, ma non dimenticherò l'origine pubblica e le ragioni sociali di questa azienda. In troppe occasioni negli anni questo territorio ha ceduto porzioni di sovranità su acqua, rifiuti e altri settori strategici, non è questo il caso perché siamo in un settore più legato al mercato, però è una realtà importante con un'origine pubblica che va preservata e valorizzerò sicuramente il risvolto sociale di questa azienda e metterò in evidenza le potenzialità anche di un ritorno economico nel nostro territorio, quindi l'obiettivo è riacquisire se ce n'è bisogno porzioni di sovranità e dare un senso di riscoperta anche sociale di questa azienda.